La procedura esecutiva prende spunto da un precetto, da un pignoramento a cui segue l'esperimento d'asta perché i creditori possano avere soddisfacimento del proprio credito. Il debitore esecutato ha la possibilità, prima che il giudice si pronunci per l'esperimento d'asta, di poter usufruire della conversione del pignoramento. Cosa vuol dire? Può convertire il proprio debito pagando interamente la sua esposizione economica nei confronti del creditore, riuscendo così a salvare il proprio immobile. Dal momento della data di trascrizione del pignoramento ha tempo 60 giorni per poter effettuare questo saldo. Grazie per la visione!